Ed ecco finalmente l'ultimo tocco! Che bella! Certo che con 20 dollari nel main vai molto più lontano che a Manhattan! Oh, guarda! Queste finte fragole ricoperte di cioccolato sembrano davvero buone! Non sono finte! Davvero? Allora stiamo andando di bene in meglio! Tiffany ne sarà entusiasta! Sì, quale ragazzina non adorerebbe giocare a bocce ingurgitando caviale! Abbiamo pensato a tutto! Dobbiamo solo aspettare che arrivino gli ospiti! Abbiamo dimenticato gli inviti! Sì, a quanto pare! Abbiamo un imbucato! Magari è venuto solo a lasciare il suo regalo! Scappiamo, presto! No! Mai correre davanti a un orso! Muoviamoci lentamente all'indietro e andiamo subito via da qui! Ehi! Sto facendo una passeggiata nel bosco e non mi aspetto per niente una festa sorpresa per il mio compleanno! Ti prego! Dimmi che sei un animatore molto peloso! Oh, credo di no! Questo non è certo il tipo di sorpresa che mi aspettavo! È la mia prima festa di compleanno, ma è normale scappare da un animale selvatico! In alcuni paesi sì! Non faceva parte del nostro piano, ma almeno abbiamo salvato la torta! Oh! 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 Vedete cosa brucia di più di un po' di sale negli occhi? Presentarsi alla mia festa di compleanno a sorpresa! Per essere quasi sbranata da un orso e sentire cantare il soja di Lance Bass! Però è arrivato tardi! Lo pagherò di meno! E poi, per incorniciare il quadro, trovare questo! La sorpresa non era per me! Ci dispiace molto, Hazel! Non sapevamo del tuo compleanno! Perché non resti qui? Abbiamo un frullato di torta! Lasciate perdere, non festeggerò mai il mio compleanno con voi! Complimenti per l'organizzazione! Che cosa ci aspetta ora, la pignetta piena di api? Non volevamo rovinarti il compleanno! Mi dispiace, Tiffany! Lou, siamo da questa parte! Oh! Non lo sapevo! Il sale mi ha temporaneamente accecata! Almeno spero sia temporaneo! Non c'è alcun bisogno di scusarvi! Non ho mai pensato di poter avere una festa a sorpresa! Quindi mi basta il fatto che l'abbiate organizzata per rendere questo il mio compleanno più bello! E poi mi sono divertita un mondo a fuggire! Aspetta, perché manca la parte migliore! The Lord of the Strings Quartet! È il mio gruppo preferito! Come facevi a saperlo? Perché siamo migliori marafichi! Oh, mamma mia! È una cosa contagiosa! No! In suaili significa che siamo amiche! Grazie infinite, ragazze! Bene, facciamo suonare questi geniacci! Li pago a minuto! Io servo la torta! Io assaggio la rosa! Non c'è più!